Pronto? Presidente, tu non c'è il tuo club lì? Oh, carissimo K2, che piacere, come stai? Bene, grazie, vedi che bello quello che fai con i Ventus? Ho visto, ho visto, ammazza, un missile di testa, complimenti! Grazie, grazie. Attento, ti volevo dire, ti potevamo parlare di mio stipendio. Oddio, di stipendio? Ma perché che hai qualche problema con lo stipendio? Non te lo accreditano in tempo e dimmelo che li richiamo questi cafoni. No, quello arriva puntuale, ne? E allora? No, volevo dire, si poteva avere piccolo aumento. Aumento? Cali tu, ma che dici? Ma io ti credevo un ragazzo sensibile. Ma che hai al posto del cuore, ne? O bidone la monnezza, ma poi ti pare il modo questo di infrangere la mia sensibilità e la mia serenità, ne? No, ma volevo dire adeguamento di stipendio, poco. Ah, adeguamento, è giusto, è giusto, Calidu, perché, vedi, il tuo stipendio, in effetti, è più alto rispetto a quello degli altri. E quindi hai ragione, te lo adego con piacere, alla media di tutti. Grazie, eh, Calidu, grazie. A proposito, Calidu? Eh, io Calidu. No, no, dico Calidu o calo io? Eh, Calidu. E allora calo io. Ciao! Ciao!